buon natale eccoci qua vedete sono le 10 e 41 io sto registrando adesso questo video per farvi gli auguri direttamente oggi non volevo fare qualcosa di preparato ieri e quindi mi sono alzato mi sono svegliato abbastanza presto stamattina a 6 e mezza mi sono allenato e poi ho preso la chitarra e iniziato a suonare un po come tutte le mattine faccio oggi però non studio niente oggi sono a riposo volevo ringraziare tutti gli iscritti tutta la community di guitar tube per il supporto per insomma i messaggi che mi scrivete di stima e quindi ne approfitto proprio per augurarvi un buon natale un buon anno perché ovviamente poi il prossimo video uscirà l'anno prossimo ci sarà una bella sorpresa seguitelo questo video che uscirà perché vedrete farò confronto tra una custom shop e una american vintage e ci saranno delle sorprese niente ho la mia eco e legend mi suono oggi suono e basta non studio anch'io vado in vacanza e quindi ragazzi a me non resta che farvi ancora gli auguri non va non va ammazzate di pannoli e panettoni mi raccomando e ci vediamo dopo le vacanze qui su guitar tube ciao e alla prossima